Ops a tutti, miei cari upsini e upsina Come state? Come state? Spero molto molto bene, dai Oggi sono qui solo per voi, appunto per registrare questo nuovo video E sarà un video che non ho mai fatto, pieno 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 di mouth sounds Perché come avrete visto dalla copertina del video Ho comprato queste caramelle frizzanti e vorrei ascoltare il suono che fanno insieme a voi Perciò senza, senza, senza dire altro Tu, mi raccomando, indosso un paio di guri auricolari E stenditi sul tuo letto, va bene? Allora devo cercare di non avvicinare troppo le mani alla videocamera Altrimenti poi mi illumina troppo e vengo male Allora Facciamo così Adesso apro questo pacchetto E poi proviamo a vedere cosa succede Perfetto Allora mi sento un odore di gomma da masticare L'odore è quello, ma c'era scritto E da quel che ho capito il gusto dovrebbe essere alla fragola Ora vediamo Ora vediamo Stranissimo 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 no no Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Mamma mia. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 adesso cerco di far stare le altre rimanenti nel pacchetto tutte in bocchino un'altra sola volta così poi apriamo il secondo pacchetto secondo pacchetto ok allora ho aperto il secondo pacchetto e questo lo consumeremo un po' più velocemente diciamo quindi ne prenderò di più ogni volta eh sì dai diciamo così non capisco perché forse la telecamera mi taglia un po' sopra però vabbè spero la luce sia posto cioè io voglio che la luce sia posto perciò ricominciamo con le caramelle che divertentissimo so Sì Grazie a tutti mi dispiace solo che sto parlando veramente poco vado con un altro po' di caramelle sì, solo che sembra uno scemo stare qua con la bocca aperta per farvi sentire le caramelle che ho sulla lingua eccole qua 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 no grazie a tutti perciò penso sia arrivato il momento di dirvi cu 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 e ora che tu provi a chiudere gli occhi per iniziare a dormire quindi iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto cliccando sul tasto iscriviti qua sotto per entrare a far parte della UBS community e se siete dei maschietti diventare i miei UBSini mentre se siete delle femminucce diventare le mie UBSini va bene poi mi raccomando cosa molto 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 importante lasciate un like se il video vi è piaciuto e commentate sempre qua sotto con tutto quello che vi passa per la testa va bene io devo salutarvi perchè questo video finisce qui ma se tu vorresti andare insieme a me troverai tra poco qua il mio video precedente qua ho la mia playlist e qua in basso il tasto per poter andare direttamente al mio canale e così vedere altri video se tu vorrai va bene quindi buonanotte buonanotte a tutti un bacio ho slate io spero veramente questo video vi sia piaciuto e vi auguro la buonanotte buonanotte e buonanotte e buonanotte 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 Buonanotte